I parlamentari di opposizione sono qui per rendere un buon servizio ai cittadini di questo paese. Non sono messi in quest'aula per mettere in difficoltà la maggioranza sempre e comunque e se non si capisce l'importanza di tutelare le opposizioni vuol dire che non si capisce l'importanza di questo stesso Parlamento. Grazie. Se si voleva avere rigore bastava accogliere gli emendamenti di buonsenso che sono stati presentati dalle forze politiche di opposizione la Lega in primis. Grazie. Questo è un atteggiamento da coda di paglia e non lo possiamo accettare. Grazie. Il nostro voto? Il nostro voto penso che sia abbastanza chiaro. Il gruppo della Lega Nord esprime convintamente il suo dissenso. No allo svuoto a carceri, no all'indulto, no ai delinquenti pasticoli. Grazie. 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 Grazie.